Dunque noi cominciamo a vedere come possiamo usare questi transistori in circuiti amplificatori e quindi per fare questo dobbiamo adoperarli in regione in cui funzionano da generatori di corrente controllati. Il primo passo è quello di polarizzare in tale regione i transistori, quindi per esempio per i bipolari dobbiamo polarizzare i bipolari in regione attiva diretta. Questo è il primo passo da fare. La prima cosa di cui ci occupiamo è esattamente questa, quindi la polarizzazione del BJT in zona attiva diretta. Ripeto, se lo polarizziamo in zona attiva diretta siamo sicuri che il transistore si comporta da generatori di corrente controllato a corrente e quindi è utilizzabile per ottenere un amplificatore. Come si fa a polarizzare? Bisogna sfruttare un circuito ad hoc e però dobbiamo prima capire il concetto principale, cioè quali sono i problemi e quali sono le cose a cui dobbiamo stare attenti nella polarizzazione. Allora, l'aspetto principale da considerare è che le caratteristiche dei transistori sono molto variabili da componente a componente. Cioè transistori venduti esattamente come identici hanno in realtà dei valori dei parametri anche fortemente diversi. C'è una certa dispersione delle caratteristiche che è legata al fatto che sono dispositivi piccoli realizzati in grandi quantità relativamente a basso costo, se non vengono, come dire, aggiustati uno per uno, d'accordo? E poi soprattutto le dimensioni così piccole fanno sì che anche piccole tolleranze nella produzione continuino in modo significativo. Per esempio in un transistore bipolare, vi ricordate, i drogaggi si fanno con l'impiantazione ionica e non è esattamente lo stesso numero di ioni che viene impiantato in ciascuna base. Quindi quando cambia un po' il numero di ioni, cambia leggermente il drogaggio della base e cambia le caratteristiche delle giunzioni Pn, per esempio. Però chiaramente noi contemporaneamente vogliamo che una volta fatto un circuito di massa in grande produzione con certi momenti di transistori, i circuiti si comportino praticamente tutti uguali. Quindi abbiamo questa situazione molto tipica in elettronica, specialmente nella realizzazione di circuiti integrati che i transistori sono molto disomogenei tra di loro, hanno una forte dispersione delle caratteristiche però poi alla fine, quando ho un telefono, tutti si devono comportare esattamente nello stesso modo. Un circuito elettronico si deve comportare come da specifica. Come si risolve il problema? Si risolve con la progettazione, cioè scegliendo delle modalità di progettazione che fanno sì che comunque, anche se i componenti hanno comportamenti diversi il circuito si comporta in modo da rispettare le specifiche. E quindi c'è un tipo di progettazione che riesce a attenuare le variazioni che ci sono tra i vari componenti. Questo è un aspetto fondamentale nella progettazione elettronica. Vedrete, anche nell'ambito del corso dedicheremo attenzione a questo aspetto. Partiamo dalla polarizzazione. Dunque, il problema. Quali sono i parametri che nel bipolare cambiano molto? Per esempio il beta, il beta f. I problemi principali sono due. Il beta f varia molto tra... Se vogliamo dire in italiano corretto, il beta f ha una forte dispersione. Di che tipo? Per esempio, beta f nominale 100, in pratica mi varia tra 30 e 300. Una dispersione pazzesca. Va bene? Ripeto, nominalmente mi viene venduto un transistore per avere beta f 100. Nella pratica trovo alcuni transistori che hanno beta f 30, altri transistori che hanno beta f 300, nominalmente uguali, va bene? Mediamente viene circa 100. È pesante come differenza. A che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che beta f, per come è definito, è molto sensibile alle variazioni. Vi ricordate? Beta f è definito come alfa f diviso 1 meno alfa f. No? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se alfa f è, per esempio, 0,99, allora beta f, se vado a fare la definizione, mi viene 100. È 99, anzi. Ok? Quindi quasi 100. 99 diviso 1... 0,99 diviso 1 meno 0,99 fa 99. D'accordo? Se alfa f subisce un po' di variazioni, perché magari i drogaggi sono cambiati, quindi c'è più corrente di base, e per esempio viene uguale a 0,9, quindi cala solo del 10%, ma beta f, immaginate, faccio 0,9 diviso 1 meno 0,9 vale 9, quindi mi cambia di 10 volte. Questo è il motivo per cui, quindi, se alfa f viene uguale a, per esempio, 0,97, beta f diventa 0,97 diviso 1 meno 0,97 e viene circa 34. Se alfa f vale 0,997, quindi mi cambia di meno dell'1%, beta f va a finire a 300. Quindi, vedete, una piccola differenza di alfa f rispetto al valore nominale, per come è definito beta f, mi porta alla differenza di beta f del tipo che vi dicevo. D'accordo? Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto molto importante per i biopolari è la dipendenza dalla temperatura. Perché quando scrivo l'espressione della corrente nel diodo diamettitore, per esempio, ho una cosa del genere, IED è uguale a IES per E elevato alla VBE, diviso la tensione termica, ve l'esplicito, è KT su Q meno 1. La temperatura interviene direttamente qui e dentro IES, anche IES in realtà dipende dalla temperatura. Va bene, ne dipende in modo molto forte. Più o meno IES raddoppia ogni 10 gradi di temperatura. Ogni aumento di temperatura di 10 gradi. E lì, non ci posso far molto, perché è chiaro, ve lo potete immaginare, voi avete un circuito elettronico spento e a temperatura ambiente, quando lo accendete si scalda. Questo è ovvio, quindi la temperatura cambia, cambiano le correnti nei diodi. D'accordo? Io devo essere ragionevolmente sicuro che invece il comportamento del circuito sia uguale. Ok? Allora, la polarizzazione del transistore bipolare deve fare in modo che il punto di riposo sia poco dipendente da beta F e sia poco dipendente dalla temperatura. Così tutte le variazioni di beta F di temperatura vengono attenuate nella polarizzazione del transistore. Quello è il primo passo. Va bene? E' chiaro il punto? Ok, come si fa? Allora, non vi sto a fare troppe storie, vi racconto direttamente la soluzione e poi vi faccio vedere perché questa soluzione è ragionevole. Effettivamente permette di attenuare molte di quelle variazioni e la soluzione più ragionevole è quella di usare il circuito cosiddetto di autopolarizzazione. Vedete, questo è il modo in cui tipicamente si polarizza il bipolare. In che cosa consiste il circuito di autopolarizzazione? Beh, consiste in pratica nel cercare di imporre la corrente di collettore invece della tensione. Ok, quindi impone la corrente di collettore perché sulle caratteristiche di uscita il punto di riposo è definito dalla coppia IC-VCE quindi se noi imponiamo la corrente di collettore abbiamo almeno imposto un parametro l'ordinata diciamo sulle caratteristiche di uscita e poi il circuito mi fa, come dire, imporre anche la ascissa cioè la VCE. Il circuito di autopolarizzazione è fatto in questo modo quindi questa è la tensione di alimentazione chiamiamola VCC questa è la R1 queste resistenze si chiamano R1, R2, RC ed RE dove questa, questo è ovviamente l'elettro di collettore questo è quello di mettitorio e ve lo scrivo perché ancora avete poca confidenza quindi questa tensione VCE è tra questo nodo e questo nodo qui passa la corrente IC e qua, questa qui è la corrente IB giusto e questa corrente qui uscente dall'emettitore è la corrente IC più IB la somma delle due perché in questo circuito imporre la corrente IC mi fa imporre anche la corrente IB perché guardate cosa succede alla maglia d'uscita vediamo la caduta di tensione tra l'alimentazione e la massa io ho VCC è uguale a RC IC più VCE più RE che moltiplica IC più IB d'accordo? allora io so che IC è uguale a beta F in zona attiva diretta beta F IB più 1 più beta F per IC 0 allora sostituendo al posto di IB posso scrivere questa espressione qua IB è uguale a IC 0 che moltiplica 1 più beta F diviso beta F più IC anzi questo è un meno più IC diviso beta F allora perché questa soluzione mi consente di ridurre la dipendenza da 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 temperature da beta F e beh guardate scriviamo un attimo in rosso se IB è molto maggiore di IC 0 guardate IC 0 è uguale a ICS per 1 meno alfa F alfa R e beta F è molto maggiore di 1 allora le cose funzionano allora prima di vedere perché funzionano vediamo se queste condizioni è facile ottenerle beta F è molto maggiore di 1 vuol dire guarda a me non importa esattamente quanto vale beta F mi importa che anche se beta F varia molto comunque sia molto maggiore di 1 e è abbastanza facile da ottenere anche nell'esempio di prima vi avevo detto beta F nominalmente 100 ma poi in pratica da 30 a 300 in tutti i casi è molto maggiore di 1 tenete presente per noi molto maggiore di 1 vorrà dire almeno 10 volte ok quindi questa cosa è facile da ottenere è una condizione che si può ottenere anche in presenza di forte dispersione l'altra condizione IB molto maggiore di IC0 è una condizione anche quella abbastanza facile da ottenere lo vediamo tra un attimo basta polarizzare abbastanza la base la corrente di base in modo da garantire almeno che sia molto maggiore di IC0 IC0 è una corrente piccola che dipende fortemente dalla temperatura perché ICS è fortemente dipendente dalla temperatura però non è difficile fare in modo che l'IB sia sufficientemente alta che anche nel caso peggiore venga molto più grande di IC0 va bene queste sono le due condizioni che devo cercare di mantenere se le soddisfo allora là le cose si semplificano molto perché guardate questa espressione praticamente posso trascurare 1 più beta F IC0 rispetto a beta F e quindi IB viene pari a IC diviso beta F va bene e se sostituisco beta F alla IB all'espressione in alto vedete mi viene VCC uguale a RC IC più VCE più RE IC che moltiplica 1 più 1 su beta F va bene se beta F è molto maggiore di 1 posso trascurarlo questo 1 su beta F verrà molto minore di 1 e quindi VCE verrà uguale a VCC meno sì a VCC meno IC aspetta un attimo scrivo più vicino VCC verrà meno IC che moltiplica RE più RC quindi vedete la non dipende da beta F e non dipende dalla temperatura va bene non VCE non dipende da beta F e da T B bene è quello che volevamo quindi ripeto con queste due condizioni semplici se riesco a imporre C contemporaneamente riesco a imporre anche VCE senza mettere dentro nessuna dipendenza da beta F e dalla temperatura vedete perché da che cosa dipende dipende soltanto da VCC che è la tensione di alimentazione che devo fissare con accuratezza e dai valori delle resistenze che devo fissare con accuratezza sposto il problema dalla dispersione dei parametri del transistore alla necessità di avere resistenze esterne accurate è un problema più semplice da risolvere perché le resistenze esterne riesco a trovarle in modo molto accurato va bene quindi in pratica le condizioni che devo soddisfare per essere in questa situazione devono essere queste due uno e due la seconda è garantita dal transistore bipolare la prima devo fare in modo che sia garantita dalla polarizzazione va bene allora questo è un ragionamento che si basa sul fatto che abbia imposto il C io il C posso cercare di imporlo in modi differenti poi vi faccio vedere un altro modo di imporre il C ma vediamo in questo caso come riesco a imporlo col circuito di autopolarizzazione vediamo come si impone il C guardiamo il circuito e adesso invece di guardare il percorso dall'alimentazione attraverso il collettore all'emettitore guardiamo che succede in ingresso R1 e R2 allora io riesco a schematizzare meglio quello che succede R1 e R2 se rifaccio il disegno da questa parte e faccio così ho R1 qui c'è R2 questo lo separo in questo modo questo questo è Vcc e questo R allora guardo che cosa succede alla maglia d'ingresso e applico Tremitevenin tra base e emettitore verso sinistra quindi il circuito mi diventa questo la tensione Tvenin che applico qua la chiamo VB e quindi avrò VB e la tensione a vuoto tra questi due nodi quindi devo fare un partitore di tensione avrò Vcc per R2 se non passa corrente qua avrò Vcc per R2 diviso R1 più R2 quindi questo è lo chiamo VBB tensione Tvenin e poi avrò la resistenza equivalente Tvenin che sarà e se devo mettere Vcc a massa devo spegnere il generatore quindi R1 mi finisce in parallelo R2 la resistenza vista è il parallelo di R1 R2 lo chiamo RB che è il parallelo di R1 R2 quindi questo è quello che vedo qui c'è il transistore e qui c'è la RE allora questa corrente qui si chiama IB questa corrente qui è la somma di B e C la corrente di emettitore ora di solito la corrente di emettitore faccio entranti in questo caso per non confondere la scrivo come somma di B più C C è la corrente che viene di qua quindi questo insieme di taglio la somma delle correnti entranti deve essere nulla quindi questa corrente che esce dall'emettitore deve essere la somma delle due che entrano allora scriviamo l'equazione alla prima maglia alla maglia VBB è nota è una funzione solo della tensione di alimentazione delle due resistenze R1 e R2 se scrivo l'equazione alla maglia mi viene VBB uguale a RB per IB più VBE questa è la base o questo è l'emettitore più RE che moltiplica IB più C D'accordo? Allora IB so che è IC diviso beta F perché ho trascurato il termine con IC0 va bene valgono sempre le condizioni prima quindi a questo punto posso sostituire e che cosa trovo? trovo questa espressione V B posso esplicitare IC a questo punto mi viene più semplice sostituisco al posto di B IC su beta F poi scrivo l'espressione per IC IC uguale a VBB meno VBE diviso RE che moltiplica 1 più 1 è questo più 1 su beta F più RB su beta F allora io a questo punto cosa voglio essere sicuro? voglio essere sicuro di aver scelto IC in modo che non dipenda dalla temperatura e che non dipenda da beta F io qui ho delle espressioni esplicite però in realtà vedo che riesco a attenuare molto la situazione perché guardiamo qua la dipendenza da beta F ora qui la dipendenza da beta F in pratica è abbastanza ridotta e posso ridurla ulteriormente guardate qui c'è un termine 1 più 1 su beta F se è vero la condizione che ho detto prima cioè che beta F sia molto più piccolo scusate molto più grande di 1 allora 1 su beta F è molto più piccolo di 1 questo lo posso trascurare non mi conta va bene quest'altra cosa invece non lo so devo essere sicuro perché conti poco che RB su beta F sia molto più piccolo di RE questa è un'altra condizione che devo garantire cioè devo fare in modo che RE per beta F sia complessivamente molto più grande di RB quindi devo consigliare che anche nel caso peggiore di beta F piccolo questa condizione valga se questa condizione vale a questo punto beta F conta niente più nel denominatore quindi ho quest'altra condizione aggiuntiva quindi come condizione cosa ho trovato che IB non deve essere troppo piccola che beta F deve essere sempre grande rispetto a 1 e che la RB non deve essere troppo grande o la RE non deve essere troppo piccola perché RE per beta F anche nel caso peggiore deve essere più grande di RB va bene per quanto riguarda la situazione di sopra questo VBE in pratica vale circa 0,7 ma dipende un po' dalla temperatura perché in realtà VBE diciamo varia di 2 millivolt per ogni grado di temperatura a parità di corrente se si vanno a fare due conti quindi lì c'è una dipendenza alla temperatura com'è che riesco a risolverla? mi basta fare in modo che VBB meno VBE non sia piccolissimo perché se VBE mi cala per esempio se la temperatura cambia esageriamo se la temperatura cambia di 50 gradi dall'accensione al funzionamento la VBE mi scende di 100 millivolt d'accordo se faccio VBB meno VBE pari a un paio di volt vuol dire che da 2 volt va a 2,1 quindi la corrente C mi è cambiata molto poco va bene? quindi diciamo che VBB meno VBE cerco di farlo molto più grande rispetto a VT la tensione termica di modo che VT non è la tensione soglia è questo io uso lo stesso VT è questo termine KT su Q va bene? questa è l'altra condizione devo fare in modo che la tensione sulla base sia sia abbastanza più grande della VBE va bene? quindi non ho fatto una valutazione esatta del parametro però abbiamo fatto una valutazione ragionevolmente approssimata per vedere come qualitativamente si perde gran parte della variabilità del parametro adesso facciamo un esempio numerico per capirlo un po' meglio che cosa vuol dire l'ultimo punto che volevo ricordare che cosa vuol dire che RE per beta F è molto maggiore di RB in pratica vuol dire che questa caduta qui RB per IB è molto più piccola della caduta di tensione RE su RE per IE perché questo termine qui vuol dire immaginate di moltiplicare a destra a sinistra della disequazione per IB qui ho RE per beta F per IB che è più o meno la caduta di tensione su RE di qua avrei RB per IB che è più o meno la caduta di tensione su RB questa condizione qui vuol dire in pratica che la caduta di tensione sulla resistenza RB è trascurabile rispetto alle altre cadute di tensione quindi che questa tensione qua che avrei l'equivalente Thevenin che avrei qui sulla base se non attaccassi il transistore viene uguale alla tensione che invece ho sulla base quando attacco il transistore perché la caduta sulle RB è trascurabile va bene questa condizione si chiama anche condizione di partitore pesante cioè perché mi sta a significare in pratica che il fatto di attaccare al partitore di base che è R1 e R2 il transistore non mi fa cambiare la tensione sull'uscita del partitore in questo senso il partitore è pesante ok questa si chiama anche condizione partitore pesante questa la guardiamo un attimo più in dettaglio però ripeto che cosa vuol dire il partitore pesante vuol dire che in pratica attaccare il transistore non mi disturba il partitore e un altro modo per verificarla come vedremo tra un attimo è che la corrente nel partitore quando non è attaccato il transistore è molto più grande della corrente che deve passare nel transistore questo vuol dire perché quando è così vuol dire che il partitore non si accorge neanche del fatto che sia attaccato o meno il transistore ed è una condizione abbastanza facile da verificare va bene quindi ricapitolando circuito di autopolarizzazione le condizioni sono il circuito di autopolarizzazione più beta f molto maggiore di 1 sempre altrimenti non funziona il circuito di autopolarizzazione più i c su beta f che l'i b deve essere molto maggiore di c0 per trascurare completamente tutte le variazioni di c0 con la temperatura più l'altra condizione che dobbiamo cercare di realizzare è che la re per beta f sia molto maggiore della rb per ogni valore di beta f questa è la condizione di partitore pesante e poi l'altra condizione da verificare è che vb meno vbe sia molto maggiore della tensione termica in modo che questa quantità non sia troppo affetta dalla variazione di temperatura ok queste condizioni vanno tutte bisogna tutte realizzarle per riuscire a ottenere una robustezza forte della corrente con la variazione sia di beta f sia della temperatura ok allora facciamo un esempio numerico vediamo la variazione di beta f immaginiamo che beta f sia nominalmente beta f nominale sia 100 e come vi dicevo vari vari da 30 nella pratica a un 300 di valore massimo va bene e supponiamo di voler mettere il transistore nel punto di riposo che ne so con una corrente di un 1000 ampere e una tensione vce di 5 volt va bene lo vogliamo posizionare qui nel mezzo della zona attiva diretta come posso fare ok per esempio ecco un altro dato che vi do immaginiamo che la tensione di alimentazione sia 10 volt va bene allora se guardate le espressioni di prima io devo scegliere adesso quanto è RC e quanto è RE va bene non devo avere RE troppo piccola perché vi ricordate mi deve venire che RE per beta F deve essere molto maggiore di REB quindi RE non devo prenderla troppo piccola supponiamo che io voglia far cadere 3 volt su RC 5 volt come mi è richiesto tra collettore e emettitore e 2 volt su RE più faccio cadere su RE più grande posso farla qui mi devono passare 1 mA quindi per esempio scelgo RC uguale a 3 kg e RE uguale a 2 kg in questo modo ho soddisfatto la caduta di tensione 3,5 e 2 che volevo il valore di 3 e il valore di 2 l'ho scelto un po' io perché l'ho scelto così ripeto perché non voglio ridurre troppo l'RE poi ora non lo sapete ancora ma vedete tra un po' che è importante anche avere una certa caduta sulla resistenza di collettore perché non posso avere la resistenza di collettore troppo piccola però supponiamo di fare in questo modo ok a questo punto io qui ho 2 volt qui cade circa tra base e emettitore cade circa 0,7 volt in conduzione quindi qui ho circa 2,7 va bene? allora io devo fare in modo che la devo fare in modo che la RB sia molto più piccola di RE per beta F vediamo nel caso peggiore quant'è R per beta F 2000 per beta F nel caso peggiore è 30 va bene? quindi nel caso peggiore RB deve essere molto minore di 60 kg d'accordo? allora prendiamola così facciamo in modo che sia 5 kg in modo che questa condizione sia soddisfatta questo vuol dire in altre parole RB per IB è molto minore di RE all'incirca sto beta F IB è circa IC quindi questo è R è 2 per IC questi sono 2 volt voglio RB B sia molto minore di 2 volt no? quindi questo con questi valori che ho scelto mi viene mi viene vero insomma che viene a meno un fattore 10 più piccolo come quello che ho indicato qui quindi qui questo viene circa 0,2 vorrà dire che VBB mi verrà all'incirca se lo prendiamo quindi 12 volte più piccolo viene scelgo RB IB viene circa 0,16 volt e questo vuol dire che VBB lo posso prendere di 2 più 0,7 più altro 0,16 mi viene 2,86 volt se lo prendo così vedete VBB meno VB e ON viene circa 2 volt quindi non è proprio per niente dipendente dalle variazioni che può avere la corrente di che può avere la VB e con la temperatura perché la differenza è molto grande vedete quindi in pratica sono riuscito a soddisfare tutte le condizioni di prima BTF è comunque abbastanza grande torno un attimo indietro IC su BTF è molto maggiore di IC0 questo sì perché IC su BTF nel caso minore quando BTF è molto grande 300 IC su BTF è un miliampere diviso 300 viene 3 microampere e ICS di solito è una corrente 2dnp con ampere quindi quella condizione è super facile da realizzare questa condizione l'ho fatta apposta scegliendo la RB sufficientemente piccola e questa condizione mi è venuta da sola perché in realtà questa si realizza da sola diciamo facilmente se la precedente è vera perché in pratica la differenza tra VBB e VBE è la caduta su R che è abbastanza grande se la precedente è vera va bene quindi non è una cosa che mi preoccupa particolarmente ora il valore di VBB lo possiamo scegliere tra un attimo però mi volevo un attimo adesso questo lo scegliamo tramitiamo approssimativamente il valore esatto lo scegliamo ora che facciamo il conto però vedete non è stato difficile realizzarlo ho dovuto prendere un R non troppo piccola e un RB abbastanza piccola a quel punto la condizione è stata realizzata vediamo nella pratica se funziona allora scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso VBB uguale RB per IB più VBE più RE per IBPC ok scrivo allora maglia d'ingresso ho VBB uguale a RB per IB più VBE ON più RE che moltiplica IB più IC va bene? adesso non faccio approssimazioni facciamo il conto esatto vediamo che le approssimazioni che abbiamo fatto sono buone l'unica che mantengo di approssimazione è che trascuro il C0 perché quello è proprio facile da ottenere è molto piccolo il C0 quindi se a meno che le correnti non siano di base di collettore non siano proprio piccole quella la posso trascurare sempre il petto è dell'ordine picco ampere anche femto ampere in alcuni casi quindi se il C viene del miliampere e il B viene del micro ampere siamo di tanti ordini di grandezza sopra il C0 il C0 lo posso trascurare allora questa qui vale nominalmente 0,7 IB è uguale a IC su beta F e nominalmente beta F vale 100 quindi scrivo l'espressione mi viene VBB uguale a VBB meno VBEON questa viene uguale a RB anzi RB diviso IC fratto beta F più RE che moltiplica IC diviso 1 più 1 su beta F allora sostituiamo i numeri che abbiamo trovato finora che vuol dire quindi qui ci mettiamo 0,7 e VBB lo scegliamo in questo caso facciamo in modo che torni l'espressione qui ci mettiamo il valore nominale che è 100 qui ci mettiamo il valore nominale che è 100 qui ci mettiamo RE che abbiamo scelto 2 kg e RB abbiamo scelto mi ricordo quanto 5 mi ricordo più 5 kg per esempio va bene IC abbiamo detto lo vogliamo 1 mA quindi abbiamo tutto per fare il conto va bene quindi RB per IC fa 5 kg per 1 mA fa 5 volt diviso 100 questo fa 0.05 più qui abbiamo qui è un pochino più complicato qui abbiamo IC che è 1 mA per 1.01 quindi fa 1.01 mA per 2 fa 2.02 volt giusto questo è 0.7 da questo mi viene VBB mi serve che sia VBB uguale a 0.05 più 2 e 0.2 fa 2.07 più 0.7 fa 2.77 ok questo valore qui prendiamo per VBB 2.77 volt vedete VBB dipende da R1 R2 anche RB dipende da R1 R2 noi sappiamo quanto è RB sappiamo quanto vogliamo VBB dobbiamo trovare R1 R2 che soddisfano l'espressione bene ce lo poniamo dopo questo problema tanto è facile sono due equazioni due cognite e sappiamo che la soluzione la troviamo allora adesso quindi questo con questo valore di VBB abbiamo che quando beta F è 100 la corrente IC è esattamente 1 mA va bene adesso vediamo quanto viene la corrente IC quando invece c'è beta F varia e invece di essere 100 è 30 oppure 300 se abbiamo fatto giusto il ragionamento l'IC deve cambiare poco facciamolo quindi queste sono le condizioni nominali queste sono le condizioni nominali che vuol dire beta F uguale 100 allora se beta F è uguale a 30 quanto viene qua ora qui ci vuole una una ci vuole un conto rapido dunque come faccio è C uguale A VBB meno VB EON diviso metto in evidenza viene RE che moltiplica 1 più 1 su beta F più RB su beta F va bene quindi qui mi viene VBB meno VB EON viene 2 e 0 7 va bene diviso RE vale 5 1 più 1 su beta F stavolta quanto vale vale 1 e 0 33 giusto perché beta F vale un trentesimo che è 0.0 33 quindi 1.0 0 33 più RB che è no RE non è 5 RE è 2 non metto KILOM perché tanto moltiplico per milli quindi lì si semplifica però questo era un 2 non era un 5 quindi scrivo le correnti in milliam e le resistenze in KILOM scusate le correnti in milliamperi e le resistenze in KILOM quindi questo e qui mi viene invece RB che è 5 diviso 30 va bene mi posso fare questo conto se qualcuno lo fa con la calcolatrice è certamente meglio di come lo faccio io viene circa 1 perché lo so che funziona però stavolta sono importanti le cifre decimali va bene provo a prendere la calcolatrice se mi riesce eccola qua quindi il denominatore vedete è 2 devo fare 5 diviso 30 che è l'ultimo pezzo bene e ci devo sommare 2.066 quindi il denominatore fa 2.232 adesso lo divido per 207 e poi faccio l'inverso va bene 0.927 quindi questo viene 0.927 milliamperre vedete in pratica è cambiato di un fattore 3 il beta F ma la corrente si è spostata di un 7-8% ok si è spostata un pochino posso far di meglio posso cercare di fare pratica in questo caso probabilmente prendendo l'RB un po' più piccola mi sarebbe venuto uno spostamento ancora più piccolo mi interessa farvi capire il concetto però pensate alla situazione beta F è cambiato di più di 3 volte rispetto al valore nominale e la corrente si è spostata di soltanto un 7-8% quindi abbiamo ridotto molto la variabilità va bene se faccio lo stesso conto con beta F pari a 300 faccio lo stesso conto lì che cosa mi viene riprendo la calcolatrice in pratica devo fare esattamente lo stesso conto quindi cosa mi viene l'ultimo pezzo viene 5 diviso 300 il pezzo a cui lo sommo è 2.0066 va bene a questo punto questo lo divido per 2.07 e poi faccio l'inverso ok mi viene un po' di più mi viene 1.023 quindi è aumentato di un 2% circa anche qui stavolta avete F aumentato nell'altra direzione la corrente si è spostata di 3 volte la corrente si è spostata soltanto del 2% VCE è linearmente dipendente dalla corrente quindi quello si era ridotto il 2% ok ma in pratica non è cambiato niente va bene chiaro l'utilità dell'autopolarizzazione scegliendo rispettando le condizioni praticamente faccio sparire quasi tutta la dipendenza del beta F la dipendenza alla temperatura ha maggiore ragione perché qui guardate la temperatura incide sui C0 che tanto è la cosa più facile da eliminare basta non scegliere correnti troppo basse poi c'è una dipendenza da VBON ma vedete dove entra VBON è questo qui VBB meno VBON se anche VBON cale da 0,7 passa a 0,6 che è quello che succede con il riscaldamento di 50 gradi del circuito elettronico e qui viene mi cambia di uno 0,5% quindi non conta quasi niente la versione di temperatura ok chiaro il discorso ok riesco in questo modo a non far cambiare il punto di riposo sulle caratteristiche di uscita per concludere questo punto attenzione che cos'è che è cambiato tanto in questa situazione il punto di riposo non è cambiato quindi sulle caratteristiche di uscita non è cambiato quasi niente però state attenti la corrente di base cambia un sacco perché la corrente di base è IC diviso beta F quindi se IC rimane costante quando beta F cambia da 30 a 300 vuol dire che l'IB cambia di un fattore 10 quindi in pratica che cosa fa il circuito di autopolarizzazione fa assorbire tutte le variazioni di beta F dalla corrente di base per tenere la corrente di collettore costante va bene è chiaro rimane sempre IC uguale a beta F e B se IC rimane costante beta F varia tanto vuol dire che tutte le differenze le sopporta i B va bene perché mi serve di più perché io ho soprattutto vedrete che in realtà nel funzionamento dell'amplificatore è molto più importante il valore di IC rispetto al valore di B e quindi mi conviene tenere costante quello va bene quindi questo concetto magari è utile ribadirlo tutte le variazioni di di beta F vengono assorbite da IB che è IC su beta F quindi se io rappresento per esempio le caratteristiche di uscita e la retta di carico giusto per farvi vedere un'immagine visiva della situazione questa situazione con beta F uguale 30 questa situazione con beta F uguale 300 questa è IC in funzione di VCE questa è IC in funzione di VCE la retta di carico è la stessa nei due casi ovviamente e passa da VCC che è 10 volt e qui è circa VCC diviso RC più RE va bene quindi questa è all'incirca costante questo è all'incirca costante la VCE questo è 10 volt diciamo questo è 5 volt è più o meno intorno al 5 volt che è il punto di riposo che cosa succede? che il punto di riposo questo supponiamo che questo qui sia 1 mA e questo qui sia 1 mA a 5 volt la retta di carico vale 1 mA perché RC è 3 kOhm RE è 2 kOhm quindi questo qui è un 2 mA e questo qui è un 2 mA questo è l'esempio numerico che abbiamo fatto va bene? allora abbiamo visto che il Q è un pochino più grande di 1 mA appena appena è un po' più grande di 1 mA quando beta è uguale a 300 ed è appena appena più piccolo di 1 mA quando beta è uguale a 30 quindi cambia molto molto poco le caratteristiche di uscita se le vado a rappresentare invece cambiano tanto perché per esempio in questo caso la curva corrisponde a un IB che è 1 mA diviso 30 cioè è 33 mA in questo caso invece questa curva corrisponde a 3.3 mA di IB cioè l'IB è cambiata ad un fattore 10 quindi per esempio se io rappresento le caratteristiche equidistanziate mi viene che in questo caso le curve sono così in quest'altro caso invece le caratteristiche sono così cioè sono molto più distanziate ma il punto di riposo è equivalente immaginiamo di fare le caratteristiche ogni 3.3 mA nel caso a sinistra ce ne ho 10 prima di arrivare alla mia nel caso a destra quella è solo la prima ok quindi questo è giusto per far dire che dal punto di vista come dire dell'immagine tutte le caratteristiche vengono assorbite le variazioni vengono assorbite ad IB perché questo è così importante facciamo un salto indietro vi ricordate il modello di piccolo segnale del transistore bipolare e vi ricordate quanto vale HIE e quanto vale HOE allora io ve lo scrivo qui per giusto per farvelo ricordare HIE era uguale a anzi no più che HIE guardiamo scusate quest'altra cosa nel circuito di giacoletto GM e RO GM era uguale a IC su VT quindi dipende dai C questo dipende dalla temperatura e quindi qui c'è una variazione con la temperatura che non si riesce a eliminare in GM però la variazione col beta si riesce a eliminare perché GM dipende dai C va bene RO vi ricordate che cosa era era VT diviso i C e anche questo dipende scusate VT non VT VA la tensione di Erli diviso i C quindi anche questo dipende dai C e anche questo RO sono sia GM sia RO diventano molto stabili se è stabile C invece HFE e HIE variano molto perché HFE è circa beta F quindi se varia beta F ovviamente varia HFE e HIE è invece VT diviso i B circa quindi se varia molto i B anche HIE varia vedete che poi per il funzionamento degli amplificatori sono più importanti questi due parametri degli altri due e questa è una cosa che vediamo insieme tra pochino e per cui è importante mantenere GM ed RO il più possibile indipendenti da variazioni di beta va bene? benissimo